In questa video lezione esamineremo la verifica formale sulla pratica da parte del SUAPE. Apprenderemo quindi quali sono i contenuti che il SUAPE deve verificare nella prima fase subito dopo la ricezione della pratica e quali sono gli atti conseguenti a seconda dell'esito della verifica stessa. All'atto della trasmissione della pratica il sistema informativo SUAPE rilascia all'interessato una ricevuta automatica che attesta la corretta presa in carico della pratica da parte del sistema stesso e quindi la ricezione della pratica da parte del SUAPE. La ricevuta automatica come vedremo è equivalente in tutto e per tutto alla ricevuta definitiva fino al rilascio della stessa o fino a quando eventualmente la pratica non dovesse essere dichiarata ricevibile da parte del SUAPE. Nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della pratica il SUAPE deve compiere la verifica formale sulla pratica stessa. Vedremo tra un attimo quali sono i contenuti di questa verifica formale. A seguito della verifica formale il SUAPE deve rilasciare la ricevuta definitiva nel caso di procedimenti in autocertificazione o l'avvio del procedimento per procedimenti di altra natura oppure può chiedere la regolarizzazione della pratica in caso di carenze sanabili o dichiarare la pratica irricevibile. Vedremo di seguito quali sono questi casi. Il controllo formale sulla pratica SUAPE avviene subito dopo la ricezione della pratica stessa da parte del SUAPE competente per territorio. È una fase necessaria del procedimento unico. Questo significa che il SUAPE deve obbligatoriamente necessariamente verificare tutte le pratiche che riceve. In questa fase il SUAPE effettua un controllo sulla completezza formale della dichiarazione autocertificativa e di suoi allegati senza entrare nel merito della veridicità della bontà delle dichiarazioni rese e della realizzabilità dell'intervento stesso. I contenuti sono quindi esclusivamente di natura formale. Le direttive regionali individuano quali sono i contenuti principali della verifica formale, fermo restando il fatto che in generale la stessa è volta a verificare che la pratica sia presentata in maniera corretta, che sia completa e che sia in sé coerente, evitando quindi che ci siano delle dichiarazioni che si contraddicono l'una con l'altra. L'oggetto della verifica formale è quindi la competenza del SUAPE a ricevere la pratica, intesa sia come competenza territoriale che come competenza procedimentale. L'interesse ad agire, la qualificazione giuridica, quindi la titolarità dell'interessato rispetto al bene nel caso di intervento edilizio o all'attività che intende esercitare e la sussistenza degli elementi essenziali della pratica, che possono essere così riassunti. Corretta, completa e coerente compilazione della modulistica, l'effettiva presenza delle attestazioni di conformità e la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica di conformità, così come vincibili dalla modulistica compilata. L'attuale sistema informatico SUAPE ci consente di effettuare già automaticamente, prima della trasmissione della pratica, tutta una serie di controlli sulla compilazione dei campi obbligatori della modulistica, sulla presenza di tutti i moduli necessari che vengono abbinati automaticamente dal sistema stesso e dalla presenza di tutti gli allegati che sono impostati come obbligatori nella configurazione del sistema stesso, rendendo quindi più semplice la verifica formale da parte dell'operatore. Vediamo in questa slide alcuni esempi di carenze della pratica riportati nelle direttive regionali. Sono carenze della pratica sicuramente i casi di modulistica compilata in maniera non corretta, non completa o incongrua, quindi contraddittoria tra un punto e l'altro, la carenza di competenza del SUAPE, la pratica che non è onnicomprensiva di tutti gli allimpimenti dovuti, la mancanza di indicazione del domicilio elettronico, della firma digitale o della procura, la mancanza degli estremi catastali per tutte le pratiche riferite a immobili fissi e quindi tolte quelle diciamo riferite ad attività esercitate in forma itinerante o comunque non riferite ad uno specifico immobile, le pratiche inviate a mezzo PEC, cartacee o con formati di file non ammessi, l'errata indicazione della tipologia di intervento delle condizioni proposte dal software in fase di compilazione della pratica e l'errata indicazione della tipologia di iter procedimentale. Salvo specifica apposita regolamentazione locale, il mancato versamento dei diritti di segreteria non è motivo di ricevibilità della pratica. Per effettuare il controllo formale della pratica, una volta entrati sul sistema Sardegna Impresa nella scrivania dell'operatore, selezioniamo la pratica di nostro interesse. Cliccando sul pulsante azioni possiamo scaricare lo zip della pratica in locale per effettuare un controllo oppure effettuare il controllo attraverso la schermata principale della pratica cliccando su vedi dettagli. In questo caso la prima cosa da verificare è la correttezza della tipologia di procedimento. Quando l'iter consigliato dal sistema che qui in questa pratica di esempio è un'autocertificazione a zero giorni non corrisponde con l'iter attivo che è conferenza di servizi, vuol dire che l'utente che ha inviato la pratica ha forzato in qualche modo il sistema e ha selezionato una tipologia di iter che non corrisponde con quello che il sistema suggerisce. Il sistema infatti è impostato in modo tale da suggerire e consigliare la tipologia dell'iter sulla base degli interventi selezionati di tutte le risposte che vengono fornite alla modulistica. Il fatto che l'iter attivo non corrisponda con l'iter consigliato non significa di per sé che c'è un errore perché potrebbe anche essere sbagliata la configurazione del sistema però significa che sicuramente deve essere fatto un approfondimento per verificare che effettivamente l'iter selezionato sia corretto. Successivamente si può controllare l'ubicazione. Nella sezione degli interventi selezionati dobbiamo andare a verificare che gli interventi che sono stati selezionati corrispondano effettivamente alla pratica che è stata inviata. Questo è un errore che viene effettuato che viene fatto in maniera abbastanza frequente. In questo caso nell'oggetto vediamo ristrutturazione di un locale commerciale apertura attività centro estetico ma negli interventi selezionati vediamo avvio di attività di acconciatore. L'acconciatore non è un centro estetico quindi sicuramente potremmo rilevare che c'è una incongruenza tra quanto indicato nell'oggetto e la tipologia di intervento selezionata. Quindi andiamo a guardare le condizioni. Questa è una sezione molto importante perché da queste dipendono tutta una serie di moduli associati e di endoprocedimenti attivati. Andiamo a guardare le condizioni se effettivamente sono compilate in maniera corretta. Qui possiamo ad esempio rilevare che nella condizione 153 che è la domanda relativa all'agua, la presente pratica si riferisce a impianti produttivi. Non sto a leggerla tutta. Vediamo che in questo caso la risposta è no perché l'intervento non riguarda impianti produttivi relativi a piccole e medie imprese. Ecco questo sicuramente è un errore formale perché avendo un avvio di attività di centro estetico sicuramente abbiamo piccola media impresa quindi è palesemente errata questa risposta. Possiamo quindi verificare l'anagrafica. Dopodiché possiamo verificare i moduli, li apriamo uno per uno e li possiamo vedere in due modalità o visualizzando il pdf e quindi vedete visualizzando esattamente la schermata di compilazione oppure cliccando sempre su azioni visualizza modulo e visualizziamo la schermata di imputazione dei dati che è sicuramente più chiara. Anche qui per verificare che ci sia diciamo una congruenza e completezza della documentazione. In caso di esito positivo della verifica formale il SUAP è tenuto a compiere le attività successivamente previste per il proseguimento dell'iter procedurale quindi sostanzialmente rilascio della ricevuta nel caso di pratica in autocertificazione o della comunicazione di avvio del procedimento con indizione della conferenza ai servizi nel caso di pratiche in conferenza, l'attivazione degli endoprocedimenti e la trasmissione della pratica come vedremo nelle successive video lezioni. In caso di esito negativo della verifica formale si possono verificare due casi distinti. Se le carenze rilevate sono sanabili il SUAP emette una richiesta di regolarizzazione per invitare l'interessato a rimuovere le carenze e quindi a regolarizzare la pratica entro un termine predeterminato, se invece le carenze sono più gravi e non sono sanabili emette una dichiarazione di ricevibilità per privare di efficacia la pratica con effetto retroattivo. In caso di omissioni o carenze sanabili che sono quasi tutte tranne quelle non sanabili che vedremo tra un attimo, il SUAP invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione formale della pratica. Nel caso di procedimenti in autocertificazione il termine assegnato per la regolarizzazione della pratica non può essere superiore a cinque giorni lavorativi. Questo perché la richiesta di regolarizzazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dei termini per la sua formazione. Il titolo abilitativo è quindi valido ed efficace e resta valido ed efficace. Per questo motivo la regolarizzazione della pratica deve essere la più rapida possibile in modo tale da consentire un corretto controllo sull'effettiva conformità dell'intervento rispetto alle normative vigenti con la successiva fase delle verifiche di merito. Nei procedimenti in conferenza di servizi e in generale nei procedimenti che richiedono l'adozione di atti espressi la regolarizzazione può essere invece compiuta in un termine più ampio. In questo caso la legge prevede fino a 30 giorni di tempo. Il titolo abilitativo non si è ancora formato perché si formerà solo con l'adozione dell'atto da parte del suo ape e quindi è possibile assegnare un termine maggiore. La norma prevede anche che se la richiesta di regolarizzazione formale è inviata nei primi 15 giorni dalla ricezione della pratica tutti i termini del procedimento vengono interrotti fino ad un massimo di 30 giorni. Questo vuol dire che riprendono a decorrere da zero solo nel momento in cui la documentazione integrativa viene trasmessa e quindi tutte le carenze della pratica vengono sanate. Ricordiamo che in caso di richiesta di regolarizzazione tardiva quindi inviata dopo 15 giorni i termini non possono essere interrotti. In ogni caso ricordiamo bene che non si può andare oltre i 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione che l'interessato abbia provveduto o no a rimuovere le carenze il suo ape deve andare avanti con le successive fasi del procedimento. La dichiarazione di ricevibilità che priva la dichiarazione autocertificativa di qualsiasi effetto si emette in due casi. Nel primo caso quando ci sono omissioni o carenze non sanabili che quindi non possono essere rimosse con una successiva integrazione della pratica da parte dell'interessato. I casi di carenze non sanabili sono tassativamente ed esclusivamente i tre che sono indicati in questa slide. Quindi le pratiche escluse dalla competenza del suo ape o comprendenti singoli adempimenti che comunque sono esclusi dalla competenza del suo ape come ad esempio nel caso di pratiche trasmesse da parte di soggetti pubblici oppure il caso di pratiche in cui viene scelto il procedimento in autocertificazione quando doveva essere scelto un procedimento in conferenza di servizi o altri tipi di procedimenti che necessitano del rilascio di atti espressi. Questo perché il procedimento in autocertificazione comporta l'immediata formazione del titolo abilitativo nel caso in cui questo invece doveva essere rilasciato a seguito di conferenza di servizi quella pratica non è sanabile deve essere dichiarata irricevibile e ripresentata. Oppure la trasmissione di pratiche in formato cartaceo che oggi è diventata decisamente rara. Oppure tranne i casi di omissioni o carenze non sanabili la dichiarazione di ricevibilità viene emessa quando la regolarizzazione non viene compiuta nei termini assegnati. È molto importante ricordare che la dichiarazione di ricevibilità deve contenere la motivazione e l'indicazione analitica di tutte le carenze, le correzioni e le integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile in maniera tale che l'interessato sia messo in condizione di trasmettere una pratica correggendo le carenze evidenziate ed evitando che in caso di riproposizione successiva della pratica la stessa gli venga nuovamente dichiarata irricevibile o comunque gli vengano contestate delle carenze che potevano essere rilevate già nella prima versione trasmessa. La dichiarazione di ricevibilità può essere emessa dal SUAP solo prima della trasmissione sia essa manuale o automatica della pratica agli enti competenti per le verifiche. Nel caso di procedimento in autocertificazione il termine tassativo è di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della pratica da parte del SUAP, anche nel caso in cui il SUAP abbia nel frattempo richiesto la regolarizzazione della pratica. Nel caso invece di procedimenti in conferenza di servizi il termine ordinario resta sempre quello di 15 giorni dalla ricezione della pratica ma nel caso in cui si è richiesta una regolarizzazione della pratica stessa che come abbiamo visto può arrivare fino a 30 giorni il termine per la trasmissione della documentazione agli enti terzi è diciamo spostato di 30 giorni in avanti. Trascorsi questi termini quindi successivamente alla trasmissione della pratica il SUAP può dichiarare la pratica irricevibile solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della legge 241 del 90 quindi nell'esercizio del potere di autotutela. Questo avviene solamente nei casi di violazione di legge o di incompetenza del SUAP.